Buonasera a tutti e benvenuti. Siamo in un momento dove il nostro governo sta cercando di individuare una manovra economica che possa far entrare denari nelle casse dello Stato, che ci consenta di ben figurare con l'Unione Europea per tutte le problematiche che ci sono state, anche perché non possiamo sfigurare in questo senso, posto che abbiamo un nostro commissario all'economia nell'Unione Europea e quindi non possiamo avere il commissario ed essere quelli che non pagano, detto banalmente. Stanno cercando, stanno lavorando, è passato il momento di dare la colpa al governo precedente perché tutti i governi da quando io ho la o ho avuto la possibilità di comprendere e di guardare la televisione o di leggere un giornale, tutti i governi successivi hanno dato la colpa al governo precedente, siamo rimasti senza denaro, non abbiamo potuto sviluppare determinate possibilità a vantaggio della gente, perché poi il concetto di fondo è sempre quello di aiutare ed alleviare le sofferenze debitorie e economiche della gente comune, cercando comunque di offrire un migliore servizio in tutti i campi che possono essere collegati, l'efficienza del servizio pubblico, della sanità, del commercio e quanto altro, cercare comunque però di raccogliere denaro per garantire alla nostra economia la possibilità di essere in regola con quelle che sono le economie degli altri paesi europei. Questo è il ragionamento di fondo ed è un ragionamento condivisibile, è un ragionamento dove tutti noi non possiamo che dire esatto, è così, fate questo e noi cercheremo comunque in ogni caso di contribuire anche per fascia, anche secondo la nostra capacità affinché l'Italia possa smarcarsi da questa brutta situazione di default e da questo così brutto modo di essere un po' denigrata perché lo siamo stati da parte di tutti quelli che hanno vissuto e garantito i vertici dell'Unione Europea. Benissimo! E allora perché però pensare in questa amplissima manovra con grandi risorse da raggiungere a una tassa sul contante e ne tassa sulle merendine? Ne ho parlato prima e tocchiamo sempre la povera gente. A queste tasse aggiungiamo la tassa sui cellulari? Il cellulare, le merendine e il contante sono la panacea di tutti i mali che possa aiutarci a rientrare in pista economicamente nell'Unione Europea? Ma sì perché la tassa di 13 Euro su tutte le schede che riguardano la clientela business o comunque questo aggravio che andrebbe a colpire imprenditori, piccoli professionisti e quanto altro sino ad incamerare 250 milioni all'anno e quindi 750 milioni in una manovra davvero potrebbe essere una grande soluzione. Caspita! La premessa che vi ho fatto, la povera gente, la gente normale, non tocchiamo voi, cerchiamo però tutti insieme di reagire e di resistere. Ma non possiamo sviluppare piani di recupero più elevati, più incisivi? O devo sentire semplicemente slogan, manette agli evasori, grandi patrimoni da tassare, ricerca dei capitali all'estero, programmi di recupero e investigazione per tutto quello che è il sommerso, il nero che cerca e costituisce comunque una piaga. Di questo sento gli elogi, sento i proclami, sento sbandierare grandi ragionamenti che ci quietano mentre siamo a casa, a cena e guardiamo la televisione e diciamo che bello, però ecco in effetti stiamo cercando di volare alto e poi leggiamo della tassa sul cellulare e diciamo caspita, un'altra tassa alla povera gente. Grazie.